mattinata di passione per gli automobilisti comaschi il traffico durante il ponte per la festa dell'ascensione svizzera non è una novità e puntualmente a risentirne sono i vicini di casa italiani a metà giornata lunghe coda al portale nord della galleria autostradale del san gottardo traffico congestionato a chiasso brogeda automobilisti in coda in entrata alla barriera di como grandate traffico in tilt tra chiasso centro e la frontiera il sito di autostrade per l'italia segnala che l'uscita di chiasso merci è stata chiusa al traffico solo per veicoli merci provenendo da como per problemi alla dogana ma già da ieri con le partenze anticipate sono iniziate a formarsi le prime code in territorio elbetico come ogni anno sono molti viaggiatori che ne approfittano per barcare il confine e recarsi a sud per trascorrere giornate di relax complici anche le previsioni meteo favorevoli una festività quella svizzera che ha creato dunque non pochi disagi agli automobilisti comaschi lunghe code sulla napoleone centro città bloccato con parcheggi già al completo dalle prime ore della mattina